Musica Tragedia questa mattina a Lecco, in località chiuso, dove una mamma ha ucciso le sue tre bambine di 3, 10 e 13 anni e poi ha tentato di togliersi la vita. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, allertati dal vicino di casa, per le tre sorelline, stesse sul letto matrimoniale dopo l'uccisione, non c'era più nulla da fare. La donna, trasportata all'ospedale per essere operata, ha confessato il barbara a sua paglia. Musica Dolore e sgomento nella piccola comunità di chiuso. La famiglia di Simona, Keise e Sidney era ben integrata, albanese di origine ma in Italia da tanti anni. La mamma casalinga da poco si era separata dal papà, che era andato a vivere da un fratello, residente poco distante dall'appartamento della famiglia. Tanti gli amici che questa mattina hanno raggiunto Corso Bergamo perché increduli della tragedia. Musica